allora buongiorno questo è il momentus con le petit liquido all'interno ovviamente con resistenza degenerabile liquido all'interno l'assolo di la taglia della tabaccheria diluito al 6 per cento i macerati quelli nuovi facciamo la prova dopo due serbatoi due tank di ricarica di liquido che corrispondono circa 6 7 ml più o meno apriamo e vediamo come sta la resistenza fa una bella magro alza vai su ecco questa è la resistenza dopo 7 8 ml la reattività ci sta ovviamente un po scura perché la taglia scura ma non sta male per niente questo dopo circa 8 barra 10 ml più o meno dai perché sono 4 ml il momentus diciamo che per i più esigenti esigentissimi tipo me è ora di rigenerare ma con questo stato della coil più o meno ci si fa un altro serbatoio tranquillamente prima di rigenerare grazie a tutti un bacio